Io credo che stiate incominciando a capire le ragioni per cui ogni uomo che voglia sopravvivere alle quotidiane lotte con la propria nemica debba fare come me, cioè soffitizzarvi. Soffitizzarvi. Chiaro? Questo è il punto. Soffitizzarsi, uomini di genere maschile, contro il logonio della donna moderna, soffitizzatevi. Soffitizzatevi. Che pace, che tranquillità. A quest'ora le nemiche sono andate a dormire. Soffitizzatevi. 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 Soffitizzatevi.